Rimanete con noi, Radio Wow, la radio dei bambini. Nasce ad Aghezzo Wow Radio, la prima web radio dedicata ai bambini. Come nasce questa idea? Nasce un pomeriggio d'estate che ero con una delle mie figlie e siccome stava piovendo eravamo in casa, stavamo ascoltando una di queste canzoni per bambini e la mia figlia di 4 anni si gira e mi dice ma tu perché non le canti, non le sai? Da lì è nata la scintilla per capire se c'era una radio per bambini e si poteva approfondire questo tema e quindi è nata la possibilità appunto di far nascere questa radio. Tra l'altro il nome stesso l'ha trovato sempre la mia figlia che appunto qui a pensare qual era il nome giusto. a un certo punto noi eravamo in montagna, arriviamo in cima a una funivia, lei guarda le montagne e dice wow e lì è nata l'idea di chiamare la radio Radio Wow che è questa idea della bellezza, della meraviglia improvvisa, questa esclamazione che sia i bambini ma anche noi adulti facciamo quando vediamo veramente qualcosa che ci colpisce così tanto e che ci fa dire wow. ecco quindi questo è anche la mission della radio, cioè avere un punto in cui possiamo vedere le cose belle che possiamo fare con i nostri bambini. Nasce ad Arezzo ma si rivolge a tutto il mondo viste le potenzialità e la facilità di ascolto del web. Esatto, sì nasce ad Arezzo perché tant'è vero che l'idea appunto che sia ad Arezzo è fondamentale perché lì anche per chi ha avuto modo anche di vedere il sito c'è una famiglia disegnata che vive in una città in una vita normale tranquilla e quindi vive ad Arezzo però appunto la web radio dà questa possibilità qua essendo che va tramite web la possiamo ascoltare veramente in tutto il mondo perché basta avere il sito internet e da lì possiamo ascoltarla in diretta veramente da Tokyo a New York a Sydney a San Paolo quindi questa è la vera potenzialità del web in questo momento qui. Quali sono i possibili sviluppi del futuro? Quello che a noi ci piacerebbe fare è che la nostra mission è che il portale diventi un punto di aggregazione per tutti quelli che vivono con i bambini quindi sia gli insegnanti che i genitori possono avere un punto per poter creare delle opportunità tipo fare dei disegni con i bambini, raccontare storie, cucinare insieme ai bambini che è sempre un'attività molto interessante che gratifica molto i bambini anzi li aiuta anche a fare quei passi nel mangiare che molto spesso fanno i capricci e quindi coinvolgendoli già nell'aspetto della cucina può aiutare in questo e quindi avere la possibilità di creare anche degli eventi e dei corsi tante persone hanno già iniziato a caricare degli eventi e dei corsi sempre comunque indirizzati ai bambini cioè la piattaforma non nasce solo per ascolto di musica ma come un punto di aggregazione per quello che appunto è il mondo dei bambini e delle famiglie o comunque di tutti quelli che hanno a che fare con i bambini. Tu sei la voce ufficiale di Wow Radio, di che cosa ti occupi? Diciamo che la proposta di Marco che mi fu fatta fu quella di occuparmi del palinsesto quindi di creare la giornata di Wow Radio dalla mattina quando i bambini si svegliano alla sera quando vanno a dormire e dentro questo palinsesto poi creare dei jingle cioè il nome e cognome della radio le musiche che accompagnano le canzoni che si sentono appunto alla radio è stata un'esperienza gratificante è un'esperienza tuttora molto bella, impegnativa ma piena anche di soddisfazioni. Ci dice un po' il palinsesto tipo dalla mattina alla sera? Allora il palinsesto inizia alle 6 con le musiche per bambini che sono le musiche diciamo che danno un po' la carica ad esempio c'è musiche che a me tra l'altro io ho messo queste musiche sono delle musiche che piacevano a me quando ero piccolo e mi davano la carica perché poi il segreto è anche quello devi mettere cose che ti piacciono e inizia la mattina quindi la sveglia di Radio Wow poi c'è il percorso che ti accompagna con i genitori a scuola dove puoi sempre ascoltare le nostre musiche con il cellulare collegandoti ora con il bluetooth alle macchine ce ne sono di modi c'è dopo durante la scuola possibilità di ascoltare alla scuola musiche per fare ginnastica, per ballare, per divertirsi mentre disegnano e poi dopo c'è tutta la parte pomeridiana si va verso le 18 dove inizia la baby dance e ci si accompagna poi dopo alla sera dove abbiamo le musiche della pappa dove ci sono anche musiche particolari dove ci sono ad esempio si ricorda ad esempio la pappa col pomodoro e cose che insomma fanno venire fame e poi dopo andiamo alle 21 con Buonanotte Cavaliere e Principesse dove auguriamo a tutti i bambini una buona notte Ti sei occupato dello sviluppo web del progetto che è diventato poi molto grande dall'idea iniziale come è stato questo lavoro? Allora innanzitutto il progetto è partito all'incirca un anno fa quando Marco è venuto a presentarci l'idea di realizzare una web radio per i bambini Il progetto a noi come Wild Drop io sono il socio di Wild Drop ci è piaciuto in maniera particolare fin da subito abbiamo deciso di prendere come mission anche quella di e aiutare un progetto così diciamo nobile e diverso da tanti altri che abbiamo fatto ma anche per noi come sfida perché la realizzazione di un portale di questo tipo presuppone l'utilizzo di una piattaforma solida di una programmazione mirata all'ottenimento di un risultato che poi è stato quello con la pubblicazione di Radio Wow che è della piattaforma questa piattaforma diciamo la difficoltà nostra di sviluppo è dovuta a due tipologie di lavorazioni la prima lavorazione è stata sul front-end ovvero sull'interfaccia da presentare all'utente che utilizza la piattaforma questa per realizzare questa cosa qui noi ci siamo concentrati soprattutto nella user experience si chiama l'esperienza dell'utente cosa deve essere messo in risalto nella piattaforma le visualizzazioni mobile e le visualizzazioni dette responsive che sono tutte ottimizzate per qualsiasi dispositivo e dall'altra parte come dicevo prima la realizzazione invece di un back-end cioè di un lato della programmazione del lato back-end sarebbe quella che utilizza il gestore della piattaforma ma anche l'utente stesso che magari ha poche skill di web di programmazione deve riuscire lo stesso a inserire dei contenuti all'interno del portale questa è stata la nostra sfida e il nostro progetto e l'ascolto è molto intuitivo è molto facile esatto pensate che la fruizione di questa piattaforma è resa talmente facile che anche un bambino può inserire tranquillamente un disegno o una ricetta anche tramite il proprio smartphone o tramite iPad e per finire vi aggiungo anche una curiosità che il portale è uscito da un mesetto e già abbiamo all'interno più di 700 pagine